questo terzo podcast come avevo già spoilerato nel precedente riguarda la dizione per il prossimo non ho ancora deciso ma penso che sarebbe ora di parlare dell'apparato fonatorio al diaframma e magari suggerire qualche esercizio di respirazione o scioglilingua poi parleremo della conversazione del doppiaggio e di tanti argomenti che ci porteranno a una migliore esposizione in pubblico e anche una migliore lettura corretta lettura ho pensato di arrivare alla vera e propria dizione cominciando da due piccole letture che affrontano l'argomento in maniera egregia e partiamo dal 1800 pensate per poi arrivare al secolo scorso novecento e infine ad oggi con tutta la tecnologia di cui disponiamo parliamo dell'ottocento parliamo di edmondo di amicis nell'ottocento sì proprio quello del libro cuore e ho scritto un bellissimo libro sulla lingua italiana che si chiama l'idioma gentile poi leggerò una prefazione alla prima edizione del dop cioè il dizionario di ortografia e pronuncia nel 1969 è stato pubblicato dall'eri edizioni rai per la radio televisione italiana il dizionario d'ortografia e pronuncia dop ancora oggi è disponibile vi sono registrati circa 140 mila vocaboli quindi per qualsiasi dubbio basta acquistare il dop oppure potete trovarlo gratuitamente anche sul web al sito del dop c'è ogni parola poi c'è anche una applicazione di un ragazzo che conosco che si chiama il dizionatore punto it che vi fa immediatamente vedere la e anche sentire la la pronuncia di qualsiasi parola italiana dunque poi come terza cosa ci sarà una una carrellata sull'edizione sulla base di un libro del 1986 di Anna Maria Romagnoli che è la parola che conquista dove ci sono sintetizzate in qualche modo la maggior parte delle regole e le parole come devono essere pronunciate l'idioma gentile impara a pronunziare bene non parla bene chi pronunzia male e noi quasi tutti pronunziamo l'italiano scelleratamente una bella lingua pronunziata male è come una bella musica sciupata da un cattivo suonatore che vale che la nostra sia una lingua ammirabilmente musicale se noi in mille modi ne alteriamo i suoni come se fosse per noi una lingua straniera a che serve che tanti poeti nei quali erano profondi e finissimi il senso e l'arte dell'armonia abbiano faticato a comporre tanti versi squisitamente armoniosi quando noi li pronunziamo in maniera che se ci sentisse chi li fece ci tratterebbe di cani e si tapperebbe gli orecchi che giova che la lingua italiana abbia tante parole dolci forti gravi agili graziose che suonano come note di canto se li dolci inaspriamo pronunziando delle s che sembrano fischi di serpente se fiacchiamo le forti scempiando le consonanti doppie se facciamo ridere con le gravi raddoppiando le consonanti semplici se aggraviamo le leggere deformiamo le graziose strascicando o strozzando le vocali e dando alla u un suono barbaro che trapassa l'orecchio come lo stridore di un chiavistello arroginito e predichiamo agli stranieri l'armonia della nostra lingua e ci vantiamo davvero orecchio musicale c'è da riderne ad avvezzarti a parlare bene e vedrai come sarai presto incoraggiato e proseguire dai vantaggi che riceverai primissimo dei quali sarà quello di pensare meglio perché dal parlare chiaro proprio preciso scolpito dalla consuetudine di esprimere tutto il proprio pensiero nel miglior modo che ci è possibile si è immancabilmente condotti a spiegarci con noi stessi e a meglio intenderci noi medesimi a formulare con maggior chiarezza e maggior precisione il pensiero anche nell'officina silenziosa della nostra mente e sarai anche incoraggiato a proseguire dalla soddisfazione che il tuo parlar bene produrrà evidentemente negli altri perché è un fatto che chi parla con chiarezza precisione facilità e speditezza facendoci risparmi a tempo e sforzo d'attenzione e imprimendo cinette nella mente quelle cose che ci preme ricordare ci procaccia oltre a un piacere di natura artistica un vantaggio di cui gli siamo grati e ti sarà incoraggiamente compenso quello che io molte volte osservai osservo che è per quasi tutti una soddisfazione d'amor proprio il sentir parlare bene l'italiano da un concittadino della loro stessa regione perché vedono in lui una prova che essi pure volendo ci riuscirebbero un argomento vivente contro l'opinione di quegli italiani d'altre regioni i quali li dicono e li stimano inetti la cosa è frequente e reciproca a parlare italiano un italiano buono e quelle soddisfazioni avrai per tutta la vita e con quelle molte altre in mille casi a mille diversi propositi in mille forme diverse inaspettate perché puoi immaginare quante simpatie quanti atti cortesi quanti consensi quante agevolezze non ci derivano da altro nel mondo che dalla scioltezza dalla grazia dalla convenienza della parola invece questa è la prefazione alla prima edizione del dop dizionario di ortografia e pronunzia il rapido diffondersi della radio e poi della televisione ha prodotto effetti grandiosi e in parte imprevisti su tutta la vita moderna ma forse il campo dove più si manifesta quest'azione è quello della lingua prima che i moderni mezzi di comunicazione sociale venissero a dare un nuovo volto alla nostra società ogni parlante si rivolgeva a una cerchia ristretta oggi l'uditorio ideale se stende si può dire a tutta la nazione tra il secolo quindicesimo e sedicesimo l'introduzione della stampa contribuì nel giro di due o tre generazioni ad allargare oltremisura le cerchie dei lettori e portò a una relativa unità della lingua scritta offrendo più in particolare una serie di modelli a cui poterono conformare i loro usi ortografici individuali fino a quel tempo assai divergenti gli uni dagli altri allo stesso modo nel nostro secolo la radio e la televisione hanno dato e stanno tuttora dando un'enorme spinta verso una più estesa conoscenza e padronanza della lingua parlata e anche in specie verso il consolidamento di un tipo di pronunzia italiana superiore alla varietà dialettari agli usi individuali la lingua nazionale non può essere più un patrimonio di minoranze un monopolio di certe province o di certe classi e che a sua sempre più stretta unificazione si stia preparando come il naturale sviluppo della sua storia più recente si vede da molteplici segni la radio ha avvertito fin dalle sue origini prima ancora che il dovere la necessità ad affrontare il problema si trattava a tacere d'altro d'un compito tecnico che non le era lecito eludere perché se a un ospite che venga occasionalmente intervistato non si può chiedere di abbandonare le proprie consuetudini è invece indispensabile che sia instaurata una certa uniformità fra coloro che hanno l'incombenza professionale di far sentire col mezzo della loro voce quella che per il pubblico è la voce della radio l'ente a cui è stata affidata la cura delle trasmissioni radiofoniche poi di quelle televisive ha sempre tenuto presente questa esigenza pur rendendosi conto di come siano complesse le ragioni che la giustificano e di quanto sia necessaria un'attenta gradualità nel suo soddisfacimento nei concorsi per l'assunzione d'annunciatori è stato prescritto che la loro pronuncia debba essere scevra da inflessioni dialettali nei corsi di formazione professionale è stata data una parte preminente all'insegnamento teorico e pratico della pronuncia e dell'edizione così per la lingua italiana come per le maggiori lingue straniere presso la sede di firenze dove questi corsi si sono svolti dal 1952 in poi sono state poste le basi di un centro di addestramento già dotato non solo di modernissime attrezzature audiovisive ma anche di una biblioteca specializzata che negli ultimi anni si è venuta man mano arricchendo tra le altre pubblicazioni di varia cultura linguistica di numerose opere di consultazione atte a chiarire i dubbi di pronuncia presentati da vocaboli comuni e da nomi propri italiani e stranieri ecco ora dopo questa leccatina alla RAI che però lo merita perché è stata veramente la fonte da cui una maggior parte degli italiani hanno potuto capire che esiste una lingua nazionale magari adeguarsi ad essa in qualche modo seguirà il capitolo del libro lettura e public speaking per ragazzi dedicato all'edizione con molti esempi dunque quindi vi lascio con questa filippica sulle parole italiane su come dovrebbero essere pronunciate e ci sentiamo al prossimo memoria i quattro punti dolenti della pronuncia italiana sono la e aperta o chiusa la o aperta o chiusa la s sorda o sonora la z sorda o sonora ecco i segni fonetici che ci fanno riconoscere gli otto suoni nelle pagine seguenti accento grave per la e aperta cella per la o aperta oro accento acuto per la e chiusa fede per la o chiusa dolore per la s sorda sasso per la s sonora poesia z per la z sorda amicizia z per la z sonora zelo le regole della pronuncia italiana le regole ci sono benché pochi lo sospettino non sono molte non sono esaurienti patiscono più di una eccezione ma bisogna lealmente ammettere che una volta che le abbiamo imparate dobbiamo a loro se ci salviamo da parecchi errori se non da tutti le elencheremo dunque con diligenza la e aperta è in italiano sia sempre la e aperta è nei seguenti casi nelle terminazioni verbali dei condizionali in ei ebbe ebbero vorrei cadrei verrei tornerei andrei saprebbe giungerebbe finirebbe direbbero protesterebbero griderebbero partirebbero nei diminutivi in ello e nei nomi che terminano in ello ella bambinello somarello vinello stupidello scioccherello anello carosello castello novella pulzella zitella nei nomi che terminano in ema tema problema teorema schema sistema patema poema nei nomi che terminano in enda agenda azienda faccenda ammenda tenda vicenda merenda benda e leggenda negli infiniti in endere accendere comprendere difendere estendere fraintendere prendere rendere tendere negli aggettivi in endo orrendo stupendo e tremendo nel gerundio in endo piangendo uscendo partendo scendendo dividendo sottraendo e finendo negli aggettivi in ense enso ente ento castrense circense estense forense denso immenso melenso propenso coerente cosciente effervescente furente attento contento lento e turbolento nel participio presente in ente accogliente balbuziente diffidente esauriente fervente impellente piangente nei nomi che terminano in enza coesistenza coesistenza cointeressenza concorrenza evanescenza influenza insolvenza e scadenza nei nomi aggettivi in erio area criterio desiderio deleterio semiserio arteria maceria materia miseria nei numerali in esimo dodicesimo sedicesimo ventesimo e centesimo nei nomi aggettivi in estere estro estra alpestre silvestre terrestre canestro capestro malestro finestra ginestra e palestra nelle terminazioni verbali in etti ettero io detti verbo dare egli dovette dovere essi stettero stare nei nomi in ezio ezia lezio screzio trapezio facezia in ezia e spezia nel dittongo ie chiesa dieci ieri miele cavaliere carriera corriera mongolfiera vieni nei nomi tronchi di origine straniera aloe bignè caffè carapè te ce ce la e chiusa in italiano sia sempre la e chiusa e nei seguenti casi nei monosillabi che me re sovrano te pronome personale tre pronuncia che me re te tre nei polisillabi tronchi in e accentata finché giacché perché trentatré mercè nei nomi aggettivi terminanti in eccio casereccio cicaleccio mangereccio patereccio villareccio nei nomi aggettivi terminanti in efice artefice carnefice orefice pontefice nei nomi o vici verbali in eggio eggia di leggio posteggio sorteggio dardeggia disormeggia occhieggia villeggia nelle forme verbali in ei esti e emmo este erano temei volesti potè dovemmo sapeste crederono nell'infinito dei verbi in ere bere cadere potere sapere sedere temere tenere vedere nei nomi in esa attesa attesa difesa discesa contesa impresa offesa sorpresa negli aggettivi in esco ariostesco ciarlatanesco donchisciottesco giullaresco marinalesco e studentesco nei nomi in ese cortese francese inglese maionese marchese mese paese nei nomi in essa dottoressa duchessa contessa principessa e scommessa nelle forme verbali in essi essero esse sapessi volessi credesse leggesse facessero dicessero nelle forme verbali in ete farete cadrete godete piangete potrete nei nomi e diminutivi in etto etta architetto bozzetto foglietto poveretto stretto tetto arietta casetta bagietta burletta civetta e nelle forme verbale in eva credeva mordeva sapeva scriveva e voleva negli aggettivi in evole amorevole arrendevole conversevole mutevole piacevole scorrevole strabocchevole svenevole nei nomi in essa amarezza amarezza bellezza compitezza delicatezza giovinezza finezza tristezza negli avverbi in mente si aggirano sui duemila agilmente balordamente civilmente distrattamente elegantemente fuggevolmente gioiosamente implacabilmente liberamente loquacemente nei nomi in mento abbigliamento casamento esaurimento fidanzamento sfollamento nelle forme verbali in remo rete diremo sapremo sogneremo farete vedrete verrete nella terminazione in esimo dei nomi astratti cristianesimo feudalesimo incantesimo protestantesimo la o aperta sia sempre la o aperta o nei seguenti casi nei nomi che terminano in iolo cenciaiolo grogiolo figliolo mariolo mostacciolo vaiolo nei nomi che terminano in occio bamboccio baroccio cartoccio figlioccio nelle terminazioni verbali in olsi olse olsero colsi sciolse tolsero nel participio passato in osso commosso promosso scosso nei nomi in otto bergamotto occhiotto decotto fiotto pancotto nei nomi in ozio equinozio negozio ozio sacerdozio nei nomi in ozzo ozza abbozzo maritozzo predicozzo tozzo carrozza cozza piccozza tavolozzo nei nomi insorio accessorio illusorio provvisorio nel ditongo uo buono cuore cuoce duomo fuoco muore nuovo nuora ruota scuola suono suora suocera uomo vuole vuoto nei monosillabi no so do pronuncia no so do nei polisillabi tronchi in o accentata dirò farò pagherò però rococò la o chiusa o sia sempre la o chiusa o nei seguenti casi nelle parole che terminano in oce atroce feroce croce noce veloce voce nei nomi in ogna ogno carogna cicogna fogna menzogna rampogna vergogna zampogna bisogno cotogno sogno nei nomi che terminano in oio avvoltoio accappatoio mattatoio rasoio e vassoio nelle parole in onda onda ondo barahonda fionda gronda sponda biondo fecondo girotondo mondo nei nomi che terminano in on e bottone cannone carbone cartone educazione garzone nelle forme verbali che terminano in ono abbandono confeziono ispeziono perdono sono nei nomi in ore accusatore amore attore aviatore ambasciatore calore compositore nelle forme verbale in osi ose osero posi nascose risposero negli aggettivi in oso affettuoso astioso bellicoso chiassoso delizioso fiducioso misterioso la s sorda s la consonante s si pronuncia sempre sorda come in sasso nei seguenti casi quando è doppia rosso assai assessore quando si trova in principio di parola ed è seguita da una vocale sale sazio sigaro sole superare quando è seguita sia all'inizio sia nel corpo della parola da una delle seguenti consonanti c f p q t scansare asfalto aspetto pasqua astio quando è preceduta da altra consonante psicanalisi abside censo falso corsa borsa la s sonora la consonante s è sempre sonora come in rosa nei seguenti casi davanti alla b sbaciucchiare sbadato sbadigliare davanti alla d sdegno sdentato davanti alla g sgabello sgabuzzino davanti alla l slancio slittare bislacco davanti alla m smagrire smaltire asma davanti alla n snello snobismo snocciolare davanti alla r sradicare sragionare sregolatezza davanti alla v sveglia svenire svolazzare nella maggioranza dei casi la s che si trova fra due vocali è sonora asilo asola ausiliare alluso base basetta basilica biasimo bisogno bisonte bisunto brusio caserma caso causa cesello cesoie clausura esame esempio fisica isola marchese miseria muso paradiso scusa sposo tesoro vaso viso la z sorda s nelle parole che terminano in azia grazia disgrazia azie grazie azio sazio spazio ezia inezia spezia ezio lezio screzio trapezio izia amicizia delizia pigrizia izie calvizie canizie izio armistizio comizio fittizio ozio negozio ozio sacerdozio uzzia astuzia arguzia minuzia uzzia uzzia balbuzia nelle parole che terminano in ezza ozza uzzo bellezza bruttezza debolezza carrozza piccozza tinozza merluzzo spruzzo struzzo la z è sonora z la z è sempre sonora come in bizzarro nelle terminazioni seguenti izzare elettrizzare sintetizzare sonorizzare izzire imbizzire izzatore vaporizzatore sonorizzatore nota ecco ora un elenco di parole che cominciano con la z sorda zacchera zaffata zampata zampillo zappa zattera zecca zincaro zio zitella zittire zitto zoccolo zoppo zucca zuccaro ed ecco un elenco di parole che cominciano invece con la z sonora zabaione zafferano zaffiro zanzara zebra zelo zenit zenzero zerbino zero zibaldone zizzania zabaione zafferano zodiaco zonzo zotico zulu zenzero zaffiro zibaldone zinco nel corpo della parola la z semplice o doppia è ora sorda ora sonora abbiamo già incontrato le z disciplinate da regole quelle che incontreremo adesso sono le indisciplinabili aguzzo aguzzare ma aguzzino amazzone arzillo azienda azzardo azzurro azzettire azzuffare balza balzare balzello barzelletta bazzecola bazzicare bizantino bizza bizzarro bozzetto bozzolo brezza bronzo buzzurro calzetta calzone canzone dozzina rizzare enzo fidanzato frizzo frizzante garzone calzone colore calzone calzone